buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video perdonate l'assenza, non l'ho fatto apposta seriamente inizio ottobre volevo girare il video dei prodotti terminati ma purtroppo è arrivata l'influenza ho passato una settimana a letto con la febbre quindi non me la sono sentita, abbiate pazienza, scusatemi facciamo come al solito e cioè che condensiamo il video, quello dei prodotti di settembre in questo nuovo video che è quello dei prodotti terminati di ottobre e facciamo un unico allora partirei senza ulteriori indugi sapete che vado a random, parto prima con i prodotti per quanto riguarda la cura e l'igiene personale poi passerò ai prodotti terminati per la pulizia della casa lo so, cadaverica, ho una faccia da far paura ma insomma, tutto nella norma partiamo allora, un primo prodotto di cui non vi avevo mai parlato perché non l'avevo mai comprato è questo è la Nivea Acqua Micellare quella O2, l'ossigeno alla pelle e detergente 3 in 1 allora, questo è per pelli sensibili ed è il flacone da 400 ml che dirvi io mi sono trovata molto bene l'avevo comprata perché è in offerta sapete che di solito quando io compro qualcosa è perché è in offerta trovata molto bene trovo che pulisca e deterga effettivamente molto a fondo la pelle e perciò suppongo che la ricomprerò ne ho comprata un'altra vedrò com'è però questa quasi sicuramente la riacquisterò perché mi è piaciuta davvero tanto altro prodotto di cui non vi avevo mai parlato e che è stata anch'essa una scoperta e poi vi spiegherò è questo ed è il balsamo quello ricetta biologica miglio e avena 100% bio senza parabeni, paraffini, oli minerali PEG, SLES, SLES insomma un po' tutto e questo qui non l'ho neanche comprato io cioè come sempre l'ha comprato mia cugina ma ovviamente lei avendo un capello molto fine questo per lei era troppo pesante perciò l'ha dato a me fate conto che me l'ha dato che era si può dire quasi pieno beh allora mi è durato un sacco di tempo prima di tutto va bene che io adesso sotto la doccia utilizzo in alternativa al balsamo anche la maschera però è stato per me effettivamente una piacevole scoperta vi dico quasi che fa molta concorrenza al mio balsamo preferito forse potrebbe diventare addirittura lui il mio balsamo preferito e sono molto molto felice fate conto che io arrivavo da un'estate non troppo fantastica se vi ricordate vi dicevo anche che avevo i capelli conciati in uno stato pietoso che per via della piscina li avevo lasciati un pochino indietro e la mia parrucchiera mi aveva accazziata in ogni modo perciò da quando poi ho cominciato ad utilizzare questo più la maschera in alternativa a questo devo dire che ho sentito effettivamente i capelli rinascere e vabbè adesso non guardate che sono da lavare stasera li laverò però effettivamente sono molto più belli e forse merito anche questo e perciò questo quasi sicuramente lo ricomprerò adesso ho in uso quello solito all'oliva mitica ma credo che questo lo riaquisterò di sicuro poi non sto qui a raccontarvela dentifricio questa è la confezione grande da 125 ml l'ho comprata all'Aldi beh vi dirò che non mi sono trovata affatto male è quello specifico multi care e perciò insomma buono vi dico la verità costa pochissimo e alla fine è un dentifricio molto valido poi la roba di cui vi ho già parlato che non sto nemmeno qui troppo a raccontarvela è il Neutro Roberts questo fresco come sempre penso sia l'unica cosa che non cambio nel senso che non provo altri deodoranti perché questo mi piace un sacco e perciò lo ricompro ed è sempre lui molte volte mi lascio tentare magari guardo di prendere qualcosa con una profumazione diversa sempre della Neutro Roberts ma poi alla fine compro lui non c'è niente da fare perciò lui tutta la vita poi vi parlo vabbè questi sapete già di che cosa ne penso questo qua è il gel docce idratante al profumo di lime e menta buono vi dico questo penso sia insieme a quello al latticello e limone quello che ci è piaciuto di più quindi se la giocano loro due ne sto terminando un altro ne manca davvero poco però non volevo come sempre aspettare di fare un ulteriore video cioè non volevo portarlo avanti noi siamo già a inizio di novembre non volevo portarlo alla metà ecco e perciò di quell'altro vi parlerò il mese prossimo molto buono comunque sono mi sembra 99 centesimi perciò se avete la possibilità andate e comprateli perché sono validi poi vi parlo questa che è una maschera idratante per capelli sempre di balea al cocco l'ho pagata poco ma non mi è piaciuta devo essere sincera questa proprio no dice lasciare agire un minuto e risciacquare bene ma io l'ho fatta appunto al posto di balsamo o maschera ho fatto questa ma non ho assolutamente non la comprerò più perché non mi è piaciuta poi shampoo questo l'ho comprato quest'estate è sempre di Aldi non gli avrei dato un soldo bucato a dirvi la verità mi è piaciuto un sacco questo è quello classico specifico per capelli normali e leggermente grassi io l'ho comprato così perché ad estate sapete che sudo molto sul cuoio capelluto quindi tende a sporcarsi molto 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 facilmente il mio capello e ha formula la provitamina provitamina B5 ed estratto di salvia dice che i capelli riacquistano la loro naturale morbidezza e luminosità effetto seta oltre a risultare più facili da pettinare allora ammetto che è vero cioè è uno dei pochi shampoo che fa effettivamente quello che dice sapete che non sono mai riuscito a trovare lo shampoo della vita al momento ho trovato solo il balsamo ma anche su questo mi sto riferendo e ve l'ho appena dimostrato vi dirò la verità che mi è piaciuto tanto credo che forse un pensiero per riacquistarlo ce lo rifaccio quello che mi scoccia è da 300 ml e quindi ci metto un'eternità a finirlo anche adesso che uso comunque cioè li lavo due volte alla settimana i capelli quindi non lo so però però comunque è molto molto buono quindi merita se avete aldi e non avete particolari esigenze a livello di scusate di capelli provatelo e se l'avete provato ditemi che cosa ne pensate come vi siete trovati poi sempre a marchio DM questo che è il siero al Q10 complex se non ricordo male vabbè sì allora io questo l'ho terminato metà settembre facciamo mettiamola così sapete come vi dicevo quest'estate ho abbandonato completamente tutti i prodotti per il per la cura del viso tranne i sieri i sieri ho continuato ad utilizzarli perché comunque sia questo che quello di di shogun sono molto leggeri quindi questo ha una consistenza più cremosa quindi effettivamente quello di shogun è un gel vero e proprio questo è una crema ok ma ha una consistenza cremosa però ha una consistenza molto leggera tenete conto che io la mettevo comunque poca perché mettendone tanta fa lo stesso effetto ne mettevo poca al mattino e mi sono sempre trovata bene questa era da 30 ml quindi più o meno la faccio fuori sempre in un mesetto e mezzo grosso modo e e devo dire la verità mi è piaciuto molto sto terminando quello di shogun però con molta probabilità farò l'ordine sempre da shogun questo mese perché devo comprare altre cose quindi riacquisterò quello in alternativa questo trovo che sia un ottimo sostituto che poi è caduto che poi se vi ricordate vi avevo detto che volevo in ogni caso prendere a a mettere prodotti naturali o comunque biologici sì però hanno anche un discreto costo sarò sincera e io attualmente non lavorando preferisco puntare su altre cose perché non dico cioè non è detto che siano poi del tutto malvagie lo stesso e e perciò niente al momento va così ultimo prodotto di cui vi ho già anche ampiamente parlato di questo non starò qua a rompervi le scatole sono i dischetti questi sempre a marchio di M se riesco a Natale ovviamente nella wishlist metterò i dischetti quelli lavabili in fibra di bambù perché voglio almeno almeno se non riesco ad utilizzare cose biologiche naturali almeno cercare di di evitare il più possibile di comprare cose così tanto consumabili nel senso che comunque i dischetti bene o male ne uso 4-5 al giorno e non sembra ma si fa presto a fare un sacco dell'immondizia quindi visto che sto già cercando di adottare dei metodi un pochino più sani per struccarmi quindi per fare tutte queste cose preferisco cercare di utilizzare quelli e il pannetto in microfibra perché vorrei mettere anche quello prodotti per la cura personale terminata passiamo al sacco enorme di cose per la casa anche qui alcune cose le ho buttate che sono magari quelle di cui vi ho naseato altre le ho tenute altre magari non mi ricordavo comunque ho cercato di tenere tutto nei limiti del possibile allora parto da loro come al solito sapete che mi sono piaciuti tanto questi li ho tenuti perché li ho terminati tipo 4 giorni fa e quindi li ho messi direttamente nella busta però insomma mi piacciono sempre tanto li ho già riacquistati poi anche lui e di lui basta non vi parlo più sapete che mi piace adesso ho trovato anche quelli di Aldi che non mi dispiacciono però sempre un ottimo prodotto prodotto di cui non vi ho mai parlato e che ho terminato ma perché sapete già in uno dei precedenti video forse l'anno scorso addirittura in questo periodo che facevo comunque i video chiacchiericcio su settimana vi avevo detto che ho il terrore delle cinici ebbene perdonatemi sono un'assassina tutte le persone che tengono agli animali se volete potete non seguirmi più ma io prendo lui questo è un insetticida per tutte le bestioline qui presenti io lo utilizzo vi dico la verità solamente in questa stagione per le cinici quindi lo spruzzo tutto attorno allo stipide della finestra di solito lo faccio dal dentro verso il fuori così non vado a sporcare i vetri questo dura circa due settimane sempre se non piove ovviamente se piove non lo spruzzo ed effettivamente le uccide sia quelle normali che quelle asiatiche che tutte quelle possibili e immaginabili e vi dico la verità che è l'unico modo per riuscire a vivere serenamente in casa mia in questa stagione allora io questo lo trovo mi sembra in un vivaio che c'è qui da me si chiama fasoli piante però mi sembra che si riesca a trovare in tutti i vivai giardineria piuttosto che perché è della florlis ed è molto buono però se solo per questo va benissimo anche qualsiasi altro insetticide ad esempio l'ultima volta l'ho comprato mi sembra il tigota e fa comunque lo stesso identico effetto quindi se non avete un vivaio di quel genere prendete quelle tigota e fanno lo stesso miracoli poi sempre un prodotto di cui vi ho parlato e che soprassederò è questo il Mastro Lindo Bagno anche questo terminato sapete che mi piace molto perché ha un profumo fresco e non troppo penetrante mi dà la sensazione di pulito e perciò fantastico pensavo che questo video finisse più lungo invece no perché poi alla fine ci sono un sacco di prodotti di cui vi ho già parlato anche lui lo sgrassatore quello universale di Bennett quello al Marsiglia sapete che io questo lo tengo in bagno per le macchie magari quelle un pochino più ostinate sui capi visto che capita spesso e volentieri che ci macchiamo perché non si è capace a mangiare evidentemente e niente va benissimo perché toglie le macchie ovviamente cerco di spruzzarlo quando la macchia è ancora fresca non aspetto che secchi però insomma sapete che mi trovo benissimo e perciò niente continuo a ricordare adesso ho comprato quella del Marsiglia di Aldi che secondo me comunque sono presto che identici poi sempre lui l'anticalcare scusatemi di DM l'ultima volta non l'ho più trovato allora l'avevo già ricomprato in precedenza ma sono andata l'ultima volta sentite non sono ancora del tutto fuori da questa sono andata l'ultima volta l'altro ieri e non c'era più quindi mi auguro che l'abbiano terminato momentaneamente e se no vabbè tornerò a quello solito però questo è davvero mi piaceva molto perché ha anche una profumazione molto delicata e molto più buona rispetto all'altro però vabbè insomma se non ci sarà più pazienza me ne farò una ragione comunque se da voi avete DM e questo c'è ancora compratelo perché è ottimo poi ultimi 4 prodotti ammorbidente questo sempre di Aldi come se non si fosse notato vado a fare la spesa all'Aldi adesso ammorbidente di Aldi non mi dispiace però l'ho terminato in tempi rapidissimi cosa che per me è davvero difficile cioè 750 ml di ammorbidente di solito li faccio fuori tipo in un anno invece questo a parte che vabbè settembre quanta allora l'avevo già comprato tipo ad agosto forse luglio luglio forse agosto effettivamente cambiando le lenzuola spessissimo lavando le asciugamani quelle che usavo per la piscina tutti i giorni ci sta nel senso ci sta che effettivamente io l'abbia finito in così tanto cioè in così poco tempo così tanto prodotto però vabbè bando alle ciance allora questo come profumazione è fresco profumo sempre molto buono non invasivo però l'unica cosa è che lo sentivo un pochino cioè non lo sentivo tantissimo ecco sui capi però insomma va bene non è un problema l'ho cambiato adesso però fa niente niente comunque prodotto non è né promosso né bocciato diciamo che io preferisco altre altre marche perché mi sembra che rimangano di più sui capi tutto qui però insomma se non avete particolari esigenze andrà bene anche quello altro prodotto di cui vi ho lui capisco che è il power gel quello il finish l'inone max anche di questo sapete che ve ne ho già parlato mi trovo molto bene ho l'ultima confezione in uso e dopodiché non vi romperò più le scatole finché non lo ricomprerò nuovo però ci vorrà un po' perché mi sembra che adesso in caldaia io abbia quello dell'april quindi sempre gel perché so che voi vi ricordate che io ho detto che le caps non mi piacciono ed effettivamente compro gel quindi adesso finito quello questo quello che ho giù partirò con quello comunque trovo che il finish sia un'ottima marca per i detersivi per la lavastoviglie sì non ne ho non ne ho mai usati tantissimi però il finish credo che sia forse una delle migliori altro prodotto che anche questo vi ho è l'Ajax quello Optimal 7 super potente voi sapete che io l'utilizzo dove prima utilizzavo il lisoform comunque nella stanza quella dove ho la sabbietta dei gatti e e quindi niente io adoro Ajax mi piace anche l'isoform ma Ajax trovo che sia un pochino più potente mettiamola in questo modo non lo so mi sembra che faccia di più il suo lavoro piuttosto che l'isoform però lì è una mia sensazione ultimo prodotto di cui vi parlo e che non vi abbiamo mai parlato è questo sgrassatore questo è lo sgrassacucina di Icefor o penso Sleek Icefor l'ho comprato al Tigotà e questo è vabbè prima di tutto flacone in plastica riciclata come vedete è Ecolabel cioè con certificazione Ecolabel senza nickel chrome e cobalto ed è scusatemi testato nickel chrome e cobalto ed è senza coloranti edita e fosfati allora io questo effettivamente l'ho utilizzato in cucina mi ha durato un sacco di tempo anche se il flacone è quello da 750 ml pulisce a fondo molto bene profumazione molto delicata e soprattutto è ecologico non l'ho pagato più di tanti altri prodotti mi sembra che l'ho pagato sui 2 euro ok quindi non stiamo parlando di una cosa a livelli e no molto molto buono sono molto felice di averlo provato ne sto utilizzando un altro adesso perché non avevo tempo di andare da Tiguta a comprarlo però la prossima volta lo riacquisterò quello che mi piace e soprattutto dice è un prodotto consigliato da Lega Ambiente se si può in qualche modo fare qualcosa facciamolo allora io adesso parlo per me ma credo che la maggior parte di voi perché ormai nella nostra generazione è qualcosa che ormai è diventata di uso comune e cioè fare la raccolta differenziata io qui in paese ho quella porta a porta perché in ogni caso essendo un paese piccolo diciamo che non ci sono condomini forse due ce ne sono però abbiamo quella porta a porta ma vedo anche dei miei che ormai stanno in città non ci sono più i cassonetti e quindi è buona buona cosa imparare a fare una raccolta differenziata questo perché io non parlo per me o perlomeno parlo per me fino a un certo punto però nel senso io non ho figli e quindi quando non ci sarò più io non ho cioè lascerò un mondo così ai figli degli altri quindi nel momento in cui ognuno si prende cura per quel poco che può nel suo piccolo di quello che ci sta intorno direi che è una cosa che possiamo fare e che non ci richiede sforzi di nessun genere ecco perciò facciamo la raccolta differenziata cerchiamo di utilizzare se possibile anche se comodi meno prodotti come dire consumabili già abbiamo i detersivi abbiamo i prodotti che utilizziamo a livello normale quindi bagnoschiuma creme e quant'altro con dei flaconi che poi andranno ad essere gettati quindi voi capite che se possiamo magari evitare di utilizzare tante cose facciamo bene a noi e facciamo bene comunque anche all'ambiente il pippone sull'ambiente ve lo siete presi lo stesso le scatole ve le ho rotte abbastanza anche per questo mese io sto cercando in tutti i modi di uscire da questa influenza ma ce la farò quindi non preoccupatevi ogni tanto ho ancora un po' di tosse però niente che non si possa risolvere voi fatemi sapere se per caso avete provato qualcuno di questi prodotti la maggior parte sì perché me lo scrivete comunque so che bene o male sono prodotti di uso comune quindi tutti noi li utilizziamo ma fatemi sapere anche se ci sono altri prodotti che utilizzate voi e che mi consigliate che insomma in qualche modo cercherò di reperire qua nel circondario quindi niente per il momento vi saluto vi mando un bacio e vi auguro buona giornata ciao ciao